sta per iniziare ora l'incontro intitolato l'età del risorgimento intervengono luigi mascigli migliorini e gilpeq coordina gianluca barneschi buona storia a tutti buongiorno a tutti io dei tre sono gianluca barneschi e vi ringrazio per la vostra presenza è stato già annunciato che per chi volesse interloquire lasceremo uno spazio di qualche minuto alla fine non solo per chi appunto interloquisca tramite i social ma anche per coloro che vogliono intervenire tra di voi direttamente alla mia sinistra il professor luigi mascigli migliorini e alla mia destra il professor gilpeq io come ho detto già altre volte questa è la mia mio terzo anno tre su tre qui a istoria dato che il mio percorso professionale è diverso io sono un appassionato di storia non sono un professionista per cui per me è veramente un grande onore essere circondato da queste presenze perché appunto io nella vita faccio tutt'altro però questo credo sia una cosa interessante perché si dice che nel nostro paese certi obiettivi si possono raggiungere solo in una certa maniera un po' distorta invece credo che la mia piccola e modesta esperienza possa dimostrare il contrario e sono contento di essere qui per la terza volta in tre anni perché francamente credo che voi possiate condividere nell'italia del ventunesimo secolo io credo che storia non sia solo una manifestazione di successo che porta a gorizia oltre che centinaia di migliaia di centinaia e migliaia di persone porta studiosi e autorevoli esponenti della storiografia contemporanea mondiale ecco io considero che nell'italia del ventunesimo secolo e storia sia un presidio un baluardo culturale e personalmente sono veramente quasi commosso nel vedere che anche persone di tutte le generazioni anche ragazzi molto giovani in una giornata semifestiva decidano di partecipare a questi eventi l'altro giorno mi è stato regalato un libro in cui nella premessa c'era una frase di un profeta profeta minore che diceva il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza è una cosa che mi ha colpito perché innanzitutto mi ha colpito perché io adesso stamattina vi riferisco questa citazione che è stata pronunciata migliaia e denunciata migliaia di anni fa e io non so quante citazioni di questo periodo del 2017 del nostro tempo verranno riferite fra migliaia di anni non lo so e poi perché mi è sembrata adesso senza farla troppo lunga troppo pesante mi è sembrata veramente un qualcosa di importante di emblematico e di drammaticamente rilevante soprattutto in merito a quello di cui i nostri due gentili autorevoli ospiti ci parleranno perché il problema è sempre quello specialmente nel nostro paese nel ventunesimo secolo la conoscenza si parla tanto adesso è stato istituzionalizzato il discorso ad esempio della giornata delle memorie ci sono giornata delle memorie su tutto il contrario di tutto fra un po' arriveremo a cose come al solito anche un po oscillanti tra il burocratico e il ridicolo ecco ma in concreto come si declina e si sviluppa la conoscenza nell'italia contemporanea visto anche che noi oggi siamo qui a parlare di cose irrisolte di due secoli fa io credo che noi in italia in particolare viviamo quella che io chiamo la sindrome di oliver stone voi sapete chi è oliver stone ha fatto quel magnifico tecnicamente film jfk peccato che quel film sia totalmente irrilevante a livello di storia e di cronaca come l'autore il regista ha orgogliosamente detto non l'ha negato ha detto questo è la mia versione dei fatti per me è così ecco questo è grave non perché lui non possa esprimersi in questi termini per carità ognuno siamo in un mondo libero abbastanza libero il problema grosso è che tutto il mondo si farà un'idea sull'assassinio di john gerald kennedy a dallas nel 63 non sui testi non sulle carte non sui fatti ma sul film di oliver stone e questo è una cosa ulteriormente grave nel nostro paese e affligge anche quanto siamo chiamati a dibattere oggi perché come purtroppo sapete l'italia a partire dalla fine della seconda guerra mondiale forse per reazione a quello che era successo prima è afflitta da una curiosa e peculiare malattia sindrome l'autocolonialismo anche culturale l'altro l'altro ieri sentivo un notiziario televisivo e alla malcapitata giornalista non dirò di quale testata era stato scritto il testo era stato scritto sine die che è latino e naturalmente la malcapitata giornalista ha pronunciato sine die ecco vedo e mi compiaccio dello scandalo che ha suscitato questa questa mia affermazione purtroppo è così e leggevo una bellissima poesia ho preso nota di maurizio lucchi che ha fatto una bellissima poesia dicendo che lui ha viaggiato su italo e su un treno che si chiama italo il capotreno si chiama train manager ecco questa è la situazione e non è che sono cosette che io vi racconto così per stimolare la vostra attenzione sono cose drammaticamente vere e come è drammaticamente vero e qui prima di dare rapidissimamente la parola a chi mi seguirà noi siamo qui a due secoli dall'unificazione del nostro paese a parlare di questo momento fondante con una situazione in cui 50 per cento anche degli studiosi forniscono una prospettazione di quegli eventi indirizzata in una certa maniera e il 50 per cento indirizzata in maniera antitetica ebbene questo permettetemi di dirlo è assolutamente antitetico io sono un appassionato non sono un professionista però dico sempre e ho messo in pratica questo nei miei libri che lo storico dovrebbe essere un fotografo non un militante e non dovrebbe innamorarsi delle proprie idee o delle proprie presupposizioni io cerco sempre e credo che sia doveroso fare di dare una fotografia degli eventi il più completa possibile affinché chi legge o chi ascolta possa farsi la propria idea ecco è mai possibile che a 200 anni dal risorgimento ancora non abbiamo una fotografia non dico condivisa però quantomeno concorde sugli elementi fondanti è mai possibile qui parlo di un'esperienza clamorosa di alcuni mesi fa che la storia del risorgimento vada scritta o riscritta addirittura su documenti notarili sapendo della mia passione un mio collega avvocato di origine calabrese mi ha detto sai che nell'archivio della mia famiglia ho un atto notarile in cui la guarnigione comandata da da un mio trisavolo contrattualizzava la propria resa senza combattere a garibaldi cioè qui abbiamo la storia che è scritta negli atti notarili e io questo forse sarà una mia lacuna di preparazione ma questa è una cosa che mi ha sorpreso si sussurravano queste cose queste cose invece sono accadute però non sono acquisite allora vediamo se dalla nostra chiacchierata di oggi riusciremo finalmente ad avere le idee più chiare data l'autorevolezza di chi vi parlerà e magari forse fra 200 anni riusciremo a avere anche qualche idea non dico condivisa ma qualche idea più chiara sul ventennio fascista visto che è quello di cui si è parlato anche stamattina in altri incontri vediamo se riusciamo a fare questo sforzo di maturazione e di maturità a questo punto io con grande piacere do la parola al professor gilpe q e gli chiedo partendo da quello che ho detto quanto c'è secondo lei da scoprire e da divulgare sul risorgimento italiano e quanto quello che ancora non è stato scoperto e divulgato è importante ed è rilevante grazie grazie a lei e grazie a voi tutti prima di tutto devo dire mio grande piacere di essere qui a gorizia in questo come disse l'avvocato in questo presidio in questo luogo come dire particolare della riflessione storica e storiografica però non sono sicuro di essere in grado di rispondere alla alla sua domanda o almeno di esserlo subito e poi non sono sicuro di essere un buon fotografo e tra l'altro caro moderatore ancora più difficile fare una fotografia 200 anni dopo cioè testimoniare subito va bene e ne abbiamo delle testimonianze poi vanno analizzate poi il fatto di considerare la storia come foto come dire come osservazione radiografia è una cosa importante perché è legata al postulato di oggettività però francamente non sono sicuro che sia l'unico fermento l'unico vettore veramente per l'attività storiografica detto questo la domanda che noi ci poniamo oggi è interessante perché non va da sé il fatto di mettere in relazione l'identità e il tema la tematica generale con un momento storico preciso il risorgimento con un momento storico che anche se 200 anni ci separano è un momento recente e quindi l'idea di considerare che la riflessione sull'identità che è una riflessione ampia culturale eccetera l'abbiamo visto filosofica sia connessa a l'interrogazione su una categoria di periodizzazione cioè su una serie di eventi fossi in francia io non sono sicuro che sarebbe possibile fare un convegno su identità nazionale francese ponendo il problema del dello spazio del posto della rivoluzione francese nell'identità francese chiedendo il nesso preciso tra rivoluzione momento rivoluzionario e identità francese questo per dire cosa per dire che la prima delle specificità a parer mio che sono uno storico straniero la prima delle specificità italiane e di potere adesso interrogare l'identità e l'identità nazionale partendo da un momento recente non dico che cioè il momento del risorgimento partendo anche da un momento di oggettività oggettivazione della nascita dello stato e della nazione questo è un modo di dire infatti possiamo riflettere sull'identità italiana partendo da momento di transizione unitaria di nascita dello stato moderno italiano dello stato nazione detto questo cosa si possa ancora approfondire per rispondere alla sua domanda prima di tutto si vede io non voglio fare un riassunto della storiografia ricchissima italiana e anche straniera ma soprattutto italiana sul risorgimento voglio solo dire che è una vena prosperissima anche se si dice sempre il risorgimento è una tematica arcaizzante sappiamo bene che non è vero che il rinnovo storiografico italiano durante questi venti ultimi anni è passato da la storia del risorgimento dell'unità vedremo come storiografia culturale ma anche storiografia politica storiografia sociale del risorgimento poi io vorrei solo per dare il mio tributo breve alla nostra discussione in modo introduttivo fare tre punti brevi se mi è concesso partendo dalla sua domanda dell'approfondimento possibile primo punto per vedere che c'è nella storia del risorgimento in relazione con l'identità perché partiamo sempre del nesso primo punto per mostrare che c'è sempre c'è sempre il mantenersi del dogma dell'impossibile modernità dell'italia legata al risorgimento come se come se nel nel campo economico e sociale il risorgimento e soprattutto l'unità la transizione unitaria fosse stato un momento di impossibile modernizzazione del del paese con questa idea vecchia questo dogma vecchio della l'impossibile sviluppo economico di matrice gramsciana ci ricordiamo degli studi buonissimi tra l'altro ma di emilio sereni della polemica tra sereni e romeo quindi l'italia non poté svilupparsi e non lo poté nell'ottocento a causa della transizione unitaria poi non entro nel merito della discussione ma questo è veramente una cosa che la quale eredità è sempre presente e questo ci porta a riflettere su che cosa si porta ci porta anche a riflettere sulla cosiddette responsabilità socio economica non dico politica e culturale ma socio economica del risorgimento dell'unità della transizione unitaria ricordo vivevo a roma ho vissuto tre anni a roma la palazzo farnese con la francese di storia e ricordo nel 1990 ero a roma e la il periodico il giornale la repubblica fece una serie di dossier ben fatti con delle vignette di foratini e una di questa colana era dedicata al risorgimento sapete senza altro lo sapete sapete come veniva attratto il potenziale lettore veniva attratto con una vignetta di foratini che diceva perché l'italia sta male poi un'immagine e sotto chiediamolo al risorgimento perché l'italia sta male chiediamolo al risorgimento con una vignetta di cavour il braccio al colo o garibaldi ferito insomma tutti gli eroi del panteon del risorgimento messi male quindi questo vuol dire che c'è sempre un modo di interrogare il risorgimento e poi la transizione unitaria italiana in modo che negativo legato a l'impossibile modernità poi dopo torniamo su questo argomento il secondo punto se mi è concesso vorrei farlo intorno adesso a la riflessione sulla storia culturale del risorgimento lei mi chiese come approfondire cosa rimane da fare l'osservazione ci mostra tanti studi su la storia del risorgimento in chiave di storia della cultura ci dobbiamo interrogare perché sul perché qui c'è una lezione negativa del risorgimento e dell'unità l'idea che ci fu un deficit o una carenza una mancanza di unità culturale linguistica prima sentivo il bellissimo interessantissimo dibattito precedente si è parlato molto della lingua in questa chiave quindi una storia della cultura risorgimentale per dire e della cultura poi unitaria post-risorgimentale per dire tutto quello che è mancato all'integrazione questa è la lezione negativa ma c'è anche una lezione positiva che mette in rilievo infatti tutto quello che corrisponde a una visione oramai dominante proprio dominante della storia della cultura nella spiegazione del risorgimento e dell'unità come se in un vecchio paese come l'Italia l'unico fermento positivo fosse sempre il rincorrere alla cultura non dico all'erudizione dico alla cultura in un modo generico e io penso che ci sia molto da fare ancora per approfondire questa vena di storia della cultura per non cadere nel, a parer mio, nel difetto di considerare che quando si osserva la debolezza di un movimento politico invece in contrasto si osserva la forza di una tradizione culturale è come se l'Italia come identità e identità legata al risorgimento esistesse solo come identità culturale è una bella cosa solo che nell'argomentazione diventa un modo di dire che è un'identità debole e su questo forse dovremmo riflettere di nuovo. Terzo punto e ultimo per me la storia del risorgimento connessa con la storia dell'identità dell'Italia deve essere una storia transnazionale internazionale del risorgimento la storia del risorgimento connessa alla storia dell'identità ci mostra che durante tutto l'Ottocento l'identità nazionale italiana è un'identità europea, c'è un'europeanizzazione della storia della nazione italiana è una vera identità europea e transnazionale. Certo c'è questo motto, la citazione albertina, ben nota l'Italia fa da sé o farà da sé. Era necessario come discorso di autolegittimazione politica ideologica ma sappiamo bene, sappiamo molto bene che il risorgimento è stato il vero, nell'Europa dell'Ottocento il vero processo di internazionalizzazione della questione nazionale. Fin dall'inizio, fin dall'inizio lo sappiamo certamente in un modo tradizionale attraverso la storia diplomatica e geopolitica il risorgimento è stato un movimento, lo sappiamo bene, un modo di diplomatizzare la rivoluzione come si diceva di Cavour, cioè la concatenazione internazionale, il ruolo degli inglesi, dei francesi, eccetera non mi soffermo su questo, ma non è solo un movimento internazionale così classicamente è anche un movimento transnazionale nel fatto che la causa italiana è vissuta dai suoi attori e protagonisti fin dall'inizio come una causa di solidarietà internazionale. C'è una circolazione, gli storici lo mostrano, ma lo devono ancora mostrare di più, c'è una circolazione ininterrotta di patrioti del risorgimento nel primo Ottocento, Esuli, lo sappiamo bene in Francia, nel Belgio, nel Regno Unito, ma non solo Esuli, c'è anche il viaggio di formazione politica degli uomini e delle donne del risorgimento che si fa in Europa. Cavour, si dice sempre che Cavour non è mai andato a Roma, certo è molto giovane, ci voleva andare con la preparazione delle cose, solo che Cavour è andato otto volte in Francia, dal 1835 al 1843, è andato a Londra, è andato a Manchester, è andato nel Belgio. La sua formazione politica è una formazione europea, per anche rilasciarmi al dibattito precedente. A parte la formazione degli Esuli, i volontari, tutti i volontari, tutti gli uomini del risorgimento italiani sono andati a combattere per tutte le cause dell'euro mediterraneo del primo Ottocento. Nella rivoluzione greca, Santore di Santa Rosa, Pepe, Provana, Pecchio e sono numerosi, cosa facevano in Grecia? Affermavano la solidarietà delle due lotte, delle due lotte, delle due penisole, ma non solo, preparavano anche il campo, il terreno di battaglia del risorgimento italiano e poi nella reciprocità i gresci, come i francesi, come gli spagnoli, come i portoghesi, verranno a combattere per l'Italia del risorgimento. Quindi, per finirla veramente, io penso che, penserei che la cosa importante da approfondire per noi storici, ma anche per lo spazio mediatico, è legata dunque alla questione dell'identità, è il fatto che nell'Ottocento l'Italia, il risorgimento italiano, ci mostra che non c'è nessun contraddizione tra causa nazionale e internazionalismo. Dovremo aspettare la prima guerra mondiale per vedere il contrario. Grazie, grazie. Devo dire, per chi usa, per una persona come me che usa professionalmente la voce, non solo in questi contesti, ma nel proprio contesto professionale, mi devo complimentare per il suo ottimo, ma anche efficace ed evocativo italiano. Allora, abbiamo contestualizzato, io però questa foto, che se è una foto di 200 anni fa, vorrei riempirla di contenuti e in particolare chiederei al professor Mascilli Migliorini, data anche la sua, diciamo, collocazione geografica operativa. Allora, si fa un grandire e vorrei capire se è un frutto, diciamo, di una polemica così cialtronesca giornalistica o è una cosa che abbia un fondamento. Mi interessa il discorso di quello che è successo nell'Italia meridionale a livello industriale, a livello, perché si fa sempre, si cita sempre questa cosa, ha la prima ferrovia italiana, e qui parlo anche come storico della ferrovia, fu la Napoli Portici, gli opifici di Pietrarza erano la fabbrica più importante e quant'altro. Si raccontano questi fatti, che sono fatti, ma vorrei capire se sono fatti o fatterelli. Cioè, mi interesserebbe sapere e comprendere al di là del profilo quantitativo, se qualitativamente per l'Italia del Sud l'unificazione abbia avuto a livello industriale, a livello di qualità della vita, come si dice adesso, a livello sociale, sia stato un qualcosa che anche nel lungo termine ha costituito un beneficio o ha costituito una sorta, come qualcuno rappresenta, di inizio o della fine. Grazie. Io la foto la faccio del, oggi cos'è, 28 maggio 2017, 27 maggio, giusto, visto come siamo già sul futuro, gli storici vanno avanti, non guardano indietro. Soprattutto perché c'era difficoltà, che diceva il professor Pecù, che una foto di 200 anni fa risulta sempre un po' sbiadita, ammesso che allora si potesse fare e noi sappiamo che non si poteva fare. Cominciamo quindi dall'oggi, dall'oggi o dai giorni scorsi e così comincio a rispondere alla sua domanda, provo anche a dare sia degli elementi di fatto, sia inevitabilmente in queste discussioni degli elementi di interpretazione. In questi giorni il Consiglio Comunale della mia città, che è Napoli ed è per questo che il nostro moderatore ha voluto pungolarmi, sta discutendo la possibilità di approvare una giornata dedicata alla memoria, una di quelle che lei pure ha ricordato, una giornata alla memoria per gli eroi del risorgimento. Bella notizia, diremo. Ecco, Ciro Menotti, Silvio Pellico, Amatore Scesa, ritornano finalmente nell'attenzione dell'opinione pubblica con una iniziativa dedicata tutta a loro. No, gli eroi del risorgimento di cui si discute sono Crocco, sono i banditi, sono appunto coloro i quali insorgono, contrastano per una serie di anni quella che è la normalizzazione, repressione, l'intervento militare del reggio esercito nelle province meridionali che fu cosa tutt'altro che trascurabile. Perché Gil Pecù, che conosce molto bene anche meglio talvolta di me queste cose, sa che sono 500.000 i militari che vengono mandati a reprimere e che quindi è un intreccio di tante cose. La storiografia degli anni 50 la leggeva come una resistenza sociale, oggi la si legge come una complessiva resistenza politica, non solo quindi alle classi borghesi, ma anche all'idea stessa dello Stato nazionale. È ovvio che questa discussione, che oggi ci spenderò sopra qualche parola, sta cambiando anche abbastanza significativamente la mappa, per così dire, del senso comune dell'Italia meridionale, deve moltissimo alle ingegnose trovate che quest'altra parte dell'Italia si è, come dire, concessa per una ventina d'anni. Non si può parlare impunemente di un sud zavorra che ha appesantito il leggerissimo settentrione che altrimenti sarebbe al massimo vertici della produzione europea, non si possono stracciare i tricolori, non si possono fare tante cose che Gorizia in qualche maniera, per una tradizione di tutt'altra storia, di tutt'altra componente sociale e anche proprio emotiva, vive talvolta in maniera molto critica e sofferta, quindi forse... Però siamo in quella parte dell'Italia che ha per vent'anni e anche governato l'Italia, perché non è una parte... Adesso noi possiamo avere nella nostra città, nella mia città, un consiglio comunale un po', come dire, eccitato, ma dall'altra parte noi abbiamo avuto governi, ministri dell'interno, ministri della pubblica istruzione, che si sono, come dire, mossi nel solco di questa brillante carnevale al quale l'Italia si è dedicata per circa vent'anni e nella quale, perché qui vorrei cominciare la risposta, e nella quale, devo dire, l'appuntamento del 2011, passato ora, ma la mia fotografia ha la possibilità, come vedete, di essere mobile, di zoomare all'indietro, una tecnologia nuova che abbiamo inventato per questa occasione di Gorizia. Ebbè, nel 2019 noi siamo arrivati circa al 17 marzo, cioè al momento in cui cominciavano le celebrazioni del centocinquantenario dell'unità, in una condizione nella quale il governo stesso, impacciato, immaginava che non valeva nemmeno la pena di rendere festivo o di ricordare in qualche modo. Qualcuno di questi nostri brillanti ministri disse pure che quel giorno lui festeggiava andando a lavorare, che devo immaginare che negli altri invece non ci andasse, non lo so, non mi è chiara questa posizione, ma abbiamo vissuto anche questo e devo dire che sottotraccia c'è ancora, sia un po' tacitano. Fortunatamente all'epoca abbiamo avuto, il PQ anche qui lo ricorderà sicuramente anche con affetto personale, una persona come il presidente napolitano prese in mano la situazione e da quel momento in avanti le celebrazioni dell'unità nazionale hanno preso una piega diversa. Una piega diversa non tanto e non solo perché naturalmente alcuni degli eccessi, per così dire, a cui la nostra classe politica si era dedicata fino a quel momento furono attenuati, ma soprattutto perché egli ebbe un grandissimo successo che in parte era dovuta alla persona stessa del nostro presidente, ma anche a quello che lui andava a rappresentare, a raccontare. A Milano fu accolto con grandissimo entusiasmo, nell'Italia meridionale noi abbiamo fatto una bellissima mostra da sud che parlava anche delle radici meridionali dell'unità nazionale. Insomma, quel momento della storia è stato un momento in cui in qualche modo, a Napoli si ha una espressione che spiegherò anche se non fosse chiara, si è riusciti a tenere il carro per l'ascesa. Il carro per l'ascesa significa che il carro andava scendendo rapidamente e che il nostro presidente è riuscito in qualche modo, non proprio a riportarlo nella posizione originaria, ma quantomeno a evitare che continuasse a scendere precipitosamente. Facendoci notare una cosa, che è un punto di partenza della mia discussione, facendoci notare che in qualche modo il sentimento generale dell'opinione pubblica italiana era diverso da quello che le classi politiche avevano fino a quel momento contrabbandato come il vero sentimento dell'opinione pubblica e della società italiana. Perché altrimenti non ci si poteva convertire rapidamente dai lavacri di Pontida ad un popolo che accoglieva con piacere un presidente che raccontava quanto fosse stato importante il risorgimento e il processo che ci aveva portato all'unità nazionale. E qui c'è un punto. Primo, in questo momento le classi politiche italiane, come molte classi politiche, anche qui l'esperienza recentissima della Francia insegna, stanno speculando, fanno delle piccole speculazioni, ma non solo. La Spagna della Catalogna rappresenta un caso abbastanza analogo, cioè costruiscono le loro fortune su alcune paure, su alcune spiegazioni iper-simplificate del disagio delle popolazioni a cui esse fanno riferimento e, per dirla in una maniera storicamente, per così dire, impeccabile, la sparano sempre più grossa. Perché è chiaro che nel momento in cui tu come autonomista, per esempio l'esperienza catalana è evidente, hai ottenuto delle cose, in Catalogna ha ottenuto veramente moltissimo, hanno anche una lingua ormai che ha una circolazione, per così dire, interna e internazionale del tutto acquisita, ma non basta. Non basta perché quelle classi politiche si sono arrivate a legittimare ed ottengono, per così dire, i voti in base all'idea dell'autonomia. Se tu hai ottenuto il risultato e sei fermo, un partito autonomista, un partito che costruisce le sue fortune elettorali sull'autonomismo, non ha più bisogno di esistere o comunque non esisterebbe mai più nelle dimensioni con le quali la crescita si è determinata. Questa cosa è successa sicuramente in Catalogna, è successa nell'Italia settentrionale, è successa e sta succedendo adesso a Napoli, dove è evidente che le forze politiche, abbiamo un momento di crisi generale del sistema politico, pensano che agitando il neoborbonismo si possa fare qualche cosa di utile a se stessi. Quindi, tutta questa questione. La Francia è diversa, perché la Francia si può permettere, per così dire, il vantaggio di giocare queste paure in una chiave dichiaratamente nazionale. Per cui la Le Pen non si deve presentare, non vincerebbe mai, se si presentasse come il partito autonomo della Provenza o della Costa Azzurra, come un uomo della Bretagna non potrebbe mai agitare i valori della Vandea Libera, devono agitare un'altra cosa. Per certi aspetti è meglio, per certi aspetti è molto peggio, ma insomma è una condizione diversa. La Spagna ha una storia, e qui voglio arrivare rapidamente per rispondere alla sua domanda, l'Italia ne ha un'altra e quindi in questo momento, quello che noi chiamiamo rapidamente i populismi, possono talvolta, come è già accaduto per vent'anni nell'Italia del Nord e come comincia, inevitabilmente per una reazione, perché voi capite bene, io sono tutt'altro, lo dimostrerò tra due secondi, neoborbonico, ma tuttavia l'idea, insomma, che da questa parte del Sud si fosse determinato, per così dire, sperpero di risorse, allegri banchetti, ma io ricordo, scusatemi, una piccola interruzione, questa discussione una volta in pieno, come dire, leghismo fu portata persino in Piemonte, ero in un convegno ad Alessandria e ci fu, credo, un assessore, sì, un assessore il quale rivendicò la necessità di cambiare tutta una serie di musei che si intitolavano al risorgimento, eccetera, e di fare finalmente un museo della cultura, della civiltà piemontese, perché il Piemonte aveva sofferto enormi guai e danni dalla Costituzione dell'Unità Nazionale. Fortunatamente, perché ancora un barlume di intelligenza nell'umanità esiste, ci fu un suo spiritoso concittadino che disse, guarda, è la prima volta che io sento dire che il Piemonte ci abbia perso qualche cosa dall'Unità Nazionale. E la cosa finì abbastanza in allegria, ma per dire come, quando le menti vagano, possono arrivare a qualsiasi, parole in libertà, in libertà sì, ma le ripeto, non erano le parole che possiamo spendere qui tra noi nell'amicizia di una conversazione, erano parole impegnative che venivano a coloro i quali avevano responsabilità di governo, che distribuivano poi risorse, che articolavano poi politiche, non è poi, non finisce in risata, e tutto, questo naturalmente, anche perché, come spiegavo l'altro giorno a un mio amico che cercava anche lui di orientarsi su che cosa si può fare domani, un milanese, io gli ho detto, guarda, noi al sud prendiamo da tempo le misure sul nord, noi siamo diventati unitari nel momento in cui Milano e Torino ci hanno detto che volevano fare una certa cosa e volevano diventare la capitale d'Italia. Da quel momento Castrovillari, Cosenza, Avellino, la stessa Napoli, si sono organizzate in questa maniera. Sono organizzate bene e male, lo dirò tra due minuti, mettendo tre dati in croce per far capire dove sta il problema, però si sono organizzate. Adesso voi decidete, voi ci spiegate che rispetto al 1850, quando piuttosto che essere una brillantissima provincia dell'impero austro-ungarico, avete preferito essere la capitale di una nazione transalpina, voi avete voluto fare così? A noi ci è persa una buona idea, ce ne siamo venuti voi. Avete cambiato idea? Pensate che a questo punto conviene essere la provincia di Monaco di Baviera piuttosto che la capitale di Castrovillari? Fatecelo sapere, perché noi ci dobbiamo riorganizzare, noi dobbiamo riprendere le misure di una penisola che deve avere un punto di riferimento. Volete essere voi? A noi va benissimo, va benissimo pure l'idea della locomotiva con i vagoncini dietro, non ci sta benissimo, ma vabbè, l'abbiamo usata per 150 anni, non ci siamo trovati malissimo. Se però questa locomotiva non sa nemmeno in quale binario imboccare, è bene che ce lo dica subito. Così stanno le cose. Stanno le cose e quindi comincia tutta una storia di dire, ma può essere che a questo punto questi deragliano, vediamo di tirare fuori noi un'idea nuova, neoborbonica. Quali sono i dati di fatto? I dati di fatto, gli economisti più o meno raccontano, si può raccontare in un'altra maniera, l'Italia meridionale e l'Italia settentrionale non avevano degli straordinari livelli di differenza nello sviluppo economico all'altezza dell'unità. Lo avevano nei confronti dell'Europa, che è stata giustamente evocata da Gilles Pecou. Cioè noi, adesso vado così a cifre, complessivamente potevamo per esempio fare tutta l'industria tessile italiana, che significa l'industria dell'Ottocento, non ce ne sono molte altre. Poteva fare, mettete, 20.000 telai, meccani moderni, vabbè. Quanto siano distribuiti tra nord e sud? È tutto sommato un problema relativo se pensate che invece di 20.000 l'Inghilterra ne aveva 2 milioni. Le nostre ferrovie erano in una proporzione, ce ne aveva più il nord o meno il sud, ma la proporzione era di 1 a 10 rispetto allo sviluppo della rete ferroviaria, altro che i 37 chilometri della Napoli-Portici. Sette? Sette, no, sono un po' di più. Non sono 37 perché ho esagerato da napoletano così un po' a caccia di primati, ma sono più di sette perché ci vuole un po' di più. Sono 13-14. Allora, comunque non significa niente. La verità è che l'Italia stava completamente, come si dice, naufragando nella retratezza mediterranea. Quello sì. Dal punto di vista degli indicatori economici l'Italia soffriva. E quindi la prima cosa che gli italiani vogliono fare è modernizzarsi. Se vogliono modernizzare da nord a sud e modernizzarsi significa anche fare i liberali perché se non c'è le libertà politiche, le libertà economiche in quel momento stesso non andava. Un indicatore era significativamente diverso. L'analfabetismo medio, l'analfabetismo in regioni meridionali, arrivava all'84-85%. Quello del Piemonte, che era certamente il più dell'Italia umana in una misura diversa. Il problema non era nemmeno quello. Come siamo combinati 150-160 anni dopo? 150-160 anni dopo, però i valori devono essere corretti con le ultimissime questioni. Il sud è aumentato, si è sviluppato in una misura di 10, massimo 12 volte. Il nord si è sviluppato in una misura di 16-18 volte. Quindi qualcuno potrebbe dire eravamo molto più vicini allora, adesso siamo più distanti. Sì, però dobbiamo rispondere, siamo tutti molto più progrediti. Nessuna delle due parti del paese potrebbe mettere la mano sul fuoco che avrebbe raggiunto questi livelli, 10 noi, 16 il nord, se non ci fosse stato un paese unificato per le ragioni di dimensione che oggi con l'Europa unita nella globalizzazione appaiono chiari a tutti. Gli squilibri sono stati enormi. Oggi abbiamo avuto onde maggiori, minori, eccetera, ma alla fine la questione meridionale continua ad esistere, continua ad esistere perché se noi abbiamo un paese nel quale oggi, quindi questi sono dati dell'oggi, il reddito pro capite della popolazione al di sotto del Garigliano e la metà esatta della popolazione al di sopra del Garigliano non è assolutamente tollerabile. Ed è una dimensione che rispetto ai risultati che si erano raggiunti di allineamento negli anni 60 e 70 con le deprecate politiche meridionaliste che avevano raggiunto il 70, 71, 72% in un valore che oggi è sceso a 50, capite bene che c'è da preoccuparsi. Se Napoli ha il 60% della disoccupazione giovanile in città, mentre il valore medio della disoccupazione giovanile in Italia non supera il 28, 27, 28%, c'è qualche cosa che non funziona. Se in questo momento alcuni indicatori del reddito pro capite del prodotto interno delle regioni meridionali è addirittura inferiore a quello della Grecia, non dico nemmeno dell'Andalusia o di altri paesi o della Scozia ma della Grecia, questo vuol dire che lo Stato nazionale in questo momento, ma d'altra parte dopo 20-25 anni di quella legra scampagnata è già un miracolo che stiamo in piedi, questa cosa ha bisogno di essere guardata con molta attenzione, perché il paese si sta tirando da tutte le parti, compreso dentro le stratificazioni sociali interne dello stesso nord, ma si sta allungando in una maniera pericolosissima nuovamente. Che cosa c'entra tutto questo con il Borbone? Nulla, nulla. Io non so se lo posso dire dopo o se vogliamo fare una cosa, ma perché il Borbone in tutto questo sono i responsabili di quello che io sto dicendo adesso, posso o raccontarlo adesso o se preferite nel prossimo giro per dare la possibilità. Continuo? Allora, quello che spiego sempre ai miei amici neoborbonici quando sono a Napoli e che nel mille i napoletani volevano, e questo risponde molto alle osservazioni che faceva prima Gilles Pecudi, non stressare il tema dell'identità italiana nella questione dell'unità. Gli italiani e l'Italia stessa esistono con un'articolazione di posizioni per così dire regionali che sono la nostra ricchezza e che quindi non facevano della soluzione di unificazione territoriale né la più scontata né la più inevitabile. Tant'è vero che fino al 48, 49, 1848, ecco che la fotografia zooma verso dove volevamo arrivare, i napoletani volevano esattamente le stesse cose dei milanesi e dei torinesi con qualche problema in meno e forse con qualche problema in più. Cioè volevano la modernizzazione della loro economia, le libertà politiche e non avevano il terzo problema che avevano i milanesi, togliersi di dosso, un paese, l'Austria, che veniva visto come straniero essenzialmente perché si immaginava che era la centrale della conservazione europea e che quindi né modernità politica né modernità economica sarebbero mai arrivate da Vienna. Una Costituzione, Milano, o se la prendeva lei oppure Vienna non gliel'avrebbe mai e poi mai data. Quindi mentre per Napoli non c'era un problema di indipendenza dallo straniero perché non avevamo uno straniero, avevamo un dignitosissimo, apparentemente dignitoso sovrano, per Milano c'era un problema di indipendenza dallo straniero. Si doveva togliere di mezzo l'Austria dall'Italia settentrionale perché sennò non si sarebbe fatto nulla. Questo ci avvantaggiava perché noi napoletani quindi fino al 48-49 abbiamo creduto che questa liberalizzazione, liberismo si potesse compiere nel quadro di quella che oggi adesso va molto di moda dalle nostre parti senza diventare neoborbonici, la nazione napoletana. Un regno che sta lì da sette secoli perché stavamo insieme da sette secoli, i calabresi stavano insieme agli abruzzesi, ai pugliesi, ai napoletani, in un'unica formazione politica che era la più importante, 40% del territorio e 40% della popolazione della penisola, potevamo farlo a condizione che i Borboni facessero le cose che si chiedeva all'Austria, ma l'Austria non le avrebbe mai fatte, si chiedevano al Piemonte e si chiedevano in Italia. Alla fine del 48-49, che è il nodo della questione, c'è una sola città, un solo luogo nel quale esiste una Costituzione. Esistono dei giornali che con qualche libertà possono parlare ed esiste un'assemblea, come dire, elettiva rappresentativa con i limiti che si hanno in quelle circostanze, ma comunque che interroga e interpreta un sentimento vagamente popolare e vagamente si oppone all'altra forma. Questo luogo non è Napoli, è Torino. Da qui la storia cambia radicalmente. Da questo momento in avanti i napoletani si sono dovuti convincere, poco alla volta, ma proprio poco poco, perché persino fino al momento prima di Garibaldi c'erano napolitani che pensavano che se il nuovo re Francesco II si schierava insieme a Vittorio Emanuele nella battaglia di indipendenza, probabilmente si poteva fare un'Italia in un'altra maniera. E invece l'ostinazione dei Borboni a non ricevere questa domanda che veniva dall'interno dei classi borghesi. Io vengo da una famiglia murattiana, ho scoperto che il mio bisavolo, Ferdinando Mascigli, è stato il leader dei murattiani fino al 54. Era un proprietario terriero che naturalmente aveva i suoi interessi e che chiedeva ai Borboni, si era inventato Murat come re nazionale, perché continuava a chiedere ai Borboni di fare i re nazionali, quindi re costituzionali e moderni, e i Borboni non lo facevano. Che poi alla fine tutto questo sia diventato quello che è diventato, che è vero. È un risorgimento, perché bisogna dirlo, se no non capiamo di vincitori e vinti. E i vincitori sono quelli che si intestano un Vittorio Emanuele II e non vogliono diventare Vittorio Emanuele I re d'Italia, preferiscono continuare i Savoia piuttosto che cominciare una nuova numerazione, che non fanno un'assemblea costituente ma si prendono lo statuto e lo tirano avanti, rimaneggiandolo in tutte le maniere fascismo compreso, fino al 1948, che continuano a numerare il Parlamento nazionale italiano con la numerazione che partiva dal Parlamento subalpino, per dare da tutte le parti, come sta scritto, volete voi piazza del plebiscito italiano, volete voi riconoscere, annettervi al Regno d'Italia e riconoscere Vittorio Emanuele come re d'Italia, quella Italia non si è fatta tutta insieme, Mazzini lo avrebbe voluto, Garibaldi anche, si è fatta in questa maniera. Da qui poi tante cose che non appartengono al risorgimento ma all'unità d'Italia, ma che qui hanno una premessa e che tuttavia, concludo, scusatemi, vi ho allagato, ma i napoletani quando parlano di queste cose non devono essere, come si direbbe a Napoli, sfrocoliati, e lei mi ha sfrocoliato, sfrocoliati significa andare un po' così a scavare. Tutto questo lo dobbiamo alla cecità totale dei Borbone e a loro aver condotto il più grande stato, il più grande regno dell'Italia, della penisola, non ad essere il leader del processo di unità nazionale, ma la vittima, vittima è un po' troppo, ma la parte sconfitta. E quando uno è sconfitto, è sconfitto, non ci sta niente a fare. Vorrei parlare tanto di cos'è il risorgimento dopo il fascismo e dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, è da lì che partono tutti i guai nostri, non dalla retorica ma dal rapporto con lei, ma questa veramente sarà la prossima puntata dell'anno 21, tra due anni. Voglio dire quindi che non basterebbero nemmeno se non fossero 14, non fossero 37, ma fossero 370, 3.700 i chilometri che avesse costruito il Borbone tra Napoli e Portici, quindi una Portici che finisce praticamente a Lampedusa, non basterebbe a giustificare la sconfitta radicale che la cecità di una politica, di cui vi faccio grazia del perché e per come essa si è determinata, ha portato quella che poteva essere da Sud, come aveva voluto fare Murat a Tolentino, un'iniziativa forte e autonoma per modernizzare la penisola e darle una soluzione politica federativa probabilmente, se noi ci siamo ridotti come ci siamo ridotti, la colpa non è purtroppo dei Borbone ma è a causa dei Borbone. L'ho detto abbastanza bene, si è capito bene? Ringraziamo, ringraziamo veramente per così dire, ringraziamo Dio, ringraziamo il professore per affermazioni categoriche e chiarissime perché questo è quello di cui abbiamo bisogno in generale e sono a questo punto nel mio piccolo orgogliosissimo di aver sfrugliato il professor Luigi Mascelli Migliorini adeguatamente. Allora mi pare ci siano delle domande perché a questo punto doverosamente poniamo al professor Gilles Pecou, prego. Sì, allora Silvia chiede a Gilles Pecou via Whatsapp, lei ha parlato di internazionalizzazione del risorgimento italiano, quali furono i contributi di Francia e Gran Bretagna? e poi abbiamo anche una domanda per il professor Migliorini, c'è anche una domanda per il professor Migliorini via Youtube da Timoteo. L'unificazione con la piemontalizzazione della penisola ha creato un'Italia unita o ne ha create due, Nord e Sud? Grazie. Allora signori, doverosamente anche per rispetto della scaletta vi dico che sono le 13.01 vi dico, perdonatemi che avete, mi pare scortese dirvi avete X minuti, sono le 13.01 Bene, abbiamo capito, quindi per il mio la domanda importante, le due domande sono interessantissime ma io mi aspetto di sentire la risposta del professor Migliorini sulle due Italie però comincio con la domanda che mi fu posta il primo contributo dell'Europa e precisamente perché riguardava la Francia prima e poi la Germania della Francia al processo di europeanizzazione del risorgimento italiano se mettiamo a parte la questione importantissima, diplomatica, ancora più importante militare perché due delle, insomma la seconda guerra del risorgimento è anche considerata in Francia come una guerra francese, la guerre d'Italie con una toponimia, una odonimia parigina con le battaglie lombarde, Solferino, la sede del partito socialista francese, Rue de Solferino è un ricordo, un richiamo a questa epopea quindi però mettiamo a parte queste cose ben notte, molto ben notte io vorrei solo, nel piccolo tempo che posso usare dopo aver parlato troppo prima vorrei solo insistere sull'immenso, spettacolare processo di mediatizzazione in Francia del risorgimento italiano il risorgimento italiano nella Francia dell'Ottocento è diventato lo spettacolo di ogni giorno nella stampa, nella scrittura letteraria cioè in tutti i mezzi di pubblicizzazione e di mediatizzazione dell'epoca gli affari italiani sono diventati degli affari posso dire nel periodo del secondo impero quotidiani si dice sempre, si insiste sempre su l'estranalità per esempio delle campagne francesi ai processi o ai grandi eventi internazionali ma no, no, la stampa anche in un paese non tutto alfabetizzato però la stampa, gli affari italiani erano presenti dappertutto nella predica del prete, nei discorsi ufficiali e anche prima dell'invio delle truppe francesi spettacolare, immenso processo di mediatizzazione degli affari italiani in Francia tutti i grandi autori popolari o grandi scrittori francesi quando non sono venuti in Italia molto spesso sono venuti ma hanno parlato dell'Italia Victor Hugo voleva scrivere una biografia di Garibaldi purtroppo non la scrisse però ha scritto molto su Garibaldi Alexandre Dumas ha scritto la principale epopea sulla campagna di Marsala la principale ne fece anche un'epopea mediterranea grandissima Georges Sand eccetera e loro erano già degli autori popolari in una piccola casuccia del massiccio centrale delle campagne Georges Sand la scrittrice Georges Sand che faceva un viaggio vede un ritratto di Garibaldi rispetto ai ritratti più famosi o ai ritratti di Santini come era possibile vederli nelle campagne italiane quindi vorrei insistere su questa grande dimensione di mediatizzazione degli affari italiani nella Francia certo delle elite ma anche nella Francia delle classi popolari mediatizzazione vuol dire entrambi i lati cioè ci furono gli anti italiani veramente anti italiani col clero eccetera e poi tutti i protagonisti positivi dell'unità italiana vissuta dall'estero grazie professore grazie davvero mi sembra in particolare interessante a questo punto al professor Mascilli Migliorini la risposta all'altra domanda posta dal pubblico grazie andrò veloce e faccio due omaggi il primo lo facciamo proprio al Piemonte perché dopo aver come dire dopo essermi sfogato bisogna anche dire che intanto come adesso ha detto molto bene Gilles Pecou il processo di formazione dell'unità italiana rappresenta come dissero anche i testimoni l'evento più importante persino più dell'unità tedesca del XIX secolo ed è un'unificazione non fatta col sangue e col ferro come la realizza e se ne vedono poi le conseguenze Bismarck ma in qualche modo con una complicatissima commistione di elementi afflati democratici libertari quelli che appunto piacciono molto anche agli studi del professor Pecou e quell'elemento reggio che prima ho raccontato e secondo omaggio tant'è vero che questa commistione che fa comunque di quel momento un momento straordinario non solo della lunghissima secolare vicenda degli italiani e della penisola ma dell'Europa stessa un momento importante voglio rendere omaggio ripeto siamo a Gorizia a queste terre che tra poco ricorderanno il 24 ottobre del 1917 Caporetto quella Italia ha resistito Caporetto non era assolutamente scontato non devo dire a voi fino a che punto erano arrivati gli austriaci sfondando il fronte Venezia era si vedeva quella costruzione che non aveva nemmeno aveva poco più di 50 anni che era fatta di due Italie come dice la domanda probabilmente anche di più perché le due Italie non sono solo geografiche ma c'erano le due Italie naturalmente sociali c'era un'emigrazione massiccia che già si era determinata e non era un'emigrazione solo meridionale il Veneto il Friuli sanno bene che oltre l'oceano mica ci sono andati solamente i calabresi ci sono andati i toscani come racconta il libro cuore che è sempre qui e dobbiamo anche alla internazionalizzazione grazie all'edizione che ne ha fatto in Francia il professor Pecou insomma quella era un'Italia che aveva tutti per così dire le possibilità e persino i diritti di sfasciarsi dopo Caporetto ha tenuto ha tenuto solamente perché fucilavano i disertori quando le cose sono profondamente sbagliate in occasioni di quel genere salta tutto non puoi fucilare centinaia o migliaia o milioni di persone ci sono stati certamente momenti di contenimento orribili però l'Italia è stata in piedi e non è poco vuol dire che quella cosa che si era fatta cinquantacinque anni prima le gambe in qualche maniera le aveva messe le radici le aveva messe e si continua si continua devo dire a vedere certo salto questo tema dell'altra guerra quella persa su una retorica risorgimentale che non ha giovato ovviamente a specchio tuttavia nemmeno essa ha riuscito a modificare l'idea degli italiani che con tutte le complicazioni l'Italia è l'Italia naturalmente per dire delle due itali e rispondere il problema è che probabilmente noi ancor più che due insomma invece di una io ne avrei la barra non sta tra uno e due la barra sta tra uno e molti il problema dell'Italia è che non è riuscita non è riuscita nemmeno nel tentativo di siamo in una regione a statuto speciale nemmeno nella nascita delle regioni è riuscita ad interpretare quello che il sentimento per così dire autentico ma al tempo stesso non nazionale degli italiani non sono nazionali come i francesi non lo sono come gli spagnoli che peraltro sono diversi non lo sono come i tedeschi che lo sono ancora diversamente e come gli inglesi tra i quali tra qualche poco vedremo anche che dopo averci per così dire tante volte insegnato avremo una Scozia europea e un'Inghilterra non europea il che a me riempie per così dire di straordinaria ilarità ma è una malevolenza anti inglese che non chiedo al collega francese anche forse disposto a voler condividere perché lui è un uomo diplomatico io non sono voglio dire che il problema dell'Italia in questo momento certamente si regge ancora su due itali nord sud le differenze le ho appena dette tuttavia quello più profondo anche alla luce di quello che è stato detto sulla necessità di non stressare molto giusto l'identità e la restituzione per così dire di un respiro che la retorica nazionale pure aveva preso delle mille Italie i mille campanili le cento città ognuno di noi se è italiano lo è perché nonostante sia napoletano o nonostante sia friulano o nonostante sia milanese ma siccome è napoletano è friulano è milanese è anche italiano noi abbiamo la storia dei nostri straordinari grazie naturalmente ma la storia dei nostri straordinari antenati ci consente di poter essere ricchi plurali di avere molte patrie non in rottura tra di loro ed è per questo che anche nelle straordinari naufragi dell'Europa noi rimaniamo ancora pure con molti mugugni uno dei paesi più legati all'idea che oltre a essi napoletani friulani milanesi e poi italiani si possa anche essere europei grazie bene allora io innanzitutto mi alzo e vi ringrazio per la vostra partecipazione e la vostra presenza insieme agli autorevoli oratori che ci hanno voluto accompagnare raccogliendo la suggestione che è stata evocata allora ci vediamo tra un anno per approfondire alcune cose rimaste in sospese ma sì ma perché no con molto piacere anche perché così pure voi per un anno avete qualcosa da pensare che non sia maggioritario proporzionale porcellum queste cose qui oppure qualche altra cosa mediatica televisiva grazie davvero buon proseguimento con Estoria un grazie onoratissimo ai signori e ai professori che mi hanno accompagnato buone cose grazie a tutti grazie a tutti